Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao! Oggi facciamo questo video in collaborazione del mio make-up artist di fiducia, ovvero Marco. Visto che c'è questo video su YouTube My husband does my make-up appunto dove il marito fa da make-up artist e aiuto a tutti i cedo. Quindi oggi mi truccherà Marco, infatti sono struccata, ho messo solamente la base, la crema, insomma. Il primer! No, non ho messo il primer! Il primer! Quindi avremo come spettatore Pietro e... boh, vediamo cosa ne esce! Buona visione! Io ho preparato all'interno del cestino che vi avevo già fatto vedere, che è sempre quello di Maison du Monde, qualche prodotto per Marco e sarà lui, insomma, a scegliere quale e quando utilizzarlo. Tutto tuo! Grazie! Prego! Allora, io mi tolgo gli occhiali, perciò sarò talpa. Vediamo dove c'è il base coat. Base coat? Base coat. Soft focus foundation. Mineral power. 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 Invisible powder. Questo mi sa più da fissativo. 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 Fissante. 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 Dopo il blush. Shhh. 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 Avanti con questo. Allora, se lo vuoi applicare con le mani oppure con il pennello. No, no, pennello, pennello. No, 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 no. Riavita. Sfila. Ok. Shhh. No. Pennello, pennello. Pennello. Ah, direttamente sul pennello? No. No sul pennello diretto. Uguale. Uguale. Ma come che... Aiuto. Mai una pelle senza la fondotinta. Ah, senza la fondotinta. Mamma mia. Shhh. 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 Mamma mia. Shhh. 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 bene apposta apposta e il base coat è andato dopo fondotinta fondotinta mamma mia ma come che fossi sai vedi te se posto bene 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 fatto tutto a posto ok mamma che trucco sei un po' più truccato da sta parte di qua non importa mettiamo bene fissiamo tutto quella polvere bianca bene 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 anche il correttore anche il correttore si gira questo qua per far fuoriuscire il prodotto lì due tu hai da stanguito degli occhiali anche gli occhiali aspetta che... un attimo che... adesso sfumava... ma che trucco Pietro, non ti piace la mamma così? è stupenda Pietro la mamma, guarda che trucco che sta facendo il papà, a posto, poi mascara mamma che giuro basta, a posto, a posto, a posto, non mi sento in grado di applicarlo e adesso dove ci sfondo il blush il blush, che è il blush ma che sembri Heidi però alla fine è un po' sporco e lo chiedo tutte le mattine di truccarmi fissiamo bene qua ha un trucco da ufficio un po' da ufficio leggero, non pesante quindi tutte le tue colleghe vengono truccate più o meno il rossetto lipstick ah quindi ombretto niente no, non mi sento no, no no, quella era il mascara ah aioio ferma, ferma, ferma mamma mia mamma mia quasi quasi a carnevale se resti giusto perfetto perfetto se lo dice lui vi dico io non mi vedo nella nello sportellino della telecamera perché sono senza occhiali quindi sarà chiudo con un altro po' di blush di blush di blush risaltiamo le guanciotte qua di blush ok ma che non devo mica sembrare una trans ok perfetto guarda che trucco guarda che trucco guarda che trucco nuovo programma guarda che trucco vediamo un po' di eyeliner qua che piace sempre tanto ai 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 siamo un po' in difficoltà aspetta aspetta mamma mia mamma mia a posto a posto ve l'avevo tenuto nascosto per un motivo cioè ah trucco finito trucco finito bene qui allora aspetta che mi prendo gli occhiali mamma mia ragazzi sembro perfetto no aspetta ve lo faccio vedere bene perchè il particolare dell'occhio ne vale la pena si ti crea un po' quegli occhi un po' più lungo ah l'allungamento l'allungamento degli occhi si un po' orientale ah si sei soddisfatto perfetto bene potevo fare meglio sul rossetto ma per il resto tutto a posto beh vabbè dai pietro vieni qua anche tu va voglio un po' di blush pietro no no meglio di no per lui ok quindi spero vi siate divertiti a vedere questa questo scempio di make up come scempio ti avrò anche risaltato le guance le guanciotte con il doppio blush doppio blush doppio blush vabbè tra doppio blush allungamento tutto degli occhi e una sorta di rossetto rossetto un po' sbavato sotto ma ah sopra invece no no sopra è posto si si dai un po' così mi è scappato un attimo qua ma ci siamo vabbè vi mandiamo un bacio e al prossimo video ciao ciao saluta pietro ciao di ciao a tutti bravo ciao 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 ciao